Make the difference, create your future. Cosa ha rappresentato questa esperienza per voi? Per noi è stata una bella esperienza per prima cosa perché ci siamo messi in gioco, in questo caso in campo sportivo. Abbiamo scelto di analizzare la vita e le qualità di Usain Bolt perché tutti, a parte Tacla, che pratichiamo sport e lo riconosciamo come un idolo. Abbiamo voluto comunque ricordare che anche se uno non lo spicca per esempio nello sport come Tacla, ha molte altre qualità che possono essere rappresentate in altre cose. Secondo me questa esperienza ci è servita anche per crescere, moralmente anche perché andare sul palco, parlare davanti a tante persone è stato emozionante ma anche molto divertente. Quanto è importante un modello nella vita di una persona? Perché è importante vedere certi modelli? Perché? Perché almeno ti danno la forza di andare avanti, magari se per esempio la danza, come Giada, sbagli a fare un passo, magari pensi a questo tuo idolo e ci riprovi fino a quando ci riesci. Quindi tutti sbagliano, anche i grandi si fatica. Raccontaci della tua esperienza di danzatrice, di ballerina. Allora, come per Usain Bolt la sua passione è la velocità, per me la mia passione è la danza, che fin da piccola mi dà forza per superare gli ostacoli. Come ho questo ciondolo, che mi porta sempre con me, che mi dà sempre la forza. Questa esperienza è stata molto bella, soprattutto l'ho passata in compagnia dei miei compagni. Che consiglio dai a tutte le bambine e le ragazzine che vorrebbero fare danza ma non hanno il coraggio? Di non essere timide, come magari lo sono io, e di passare avanti. E la danza ti aiuta anche nella vita? Cioè quando danzi, poi esci fuori, come ti senti dopo? Molto entusiasta di me e molto emozionata. Soprattutto sul palco, davanti a mille persone. Cosa fa la differenza nella tua piccola vita ogni giorno? Essere un calciatore. Il calcio è il gioco più popolato nel mondo. Ma tu ti senti calciatore? Calciatore? Non lo so, perché devi lottare, devi studiare tanto. Quindi non è facile. Se un giorno non dovresti riuscire, ti peserà questo o che cosa sentiresti? Anche se non ci riesci, ti dicono no, non puoi giocare nella vita del calcio, tu devi continuare a provarci senza mollare. Giocherai sempre? Sì, sempre. Giusto, sempre con i tuoi amici? Cosa sogni del tuo futuro? Che sogni hai? Hai qualche hobby? No, ma sogni di essere una persona importante, di fare qualcosa di importante che rimane. Ok, stai ancora cercando. Invece tu? Io faccio il calciatore. Allora, io faccio il calciatore e mi piace il calcio da quando avevo 5 anni. E questa passione me l'ha data mio padre da quando sono venuta in Italia. e vorrei diventare un calciatore. Cosa ti piace dell'Italia che nel tuo paese non hai trovato? Allora, piace tutto. Anche in Marocco ci sono delle cose che ci sono in Italia. Poi basta.